400 evasori totali sconosciuti al fisco e 102 casi di frodi dell'IVA. Il bilancio di un anno di indagini sulla criminalità finanziaria e sulla illegalità nella pubblica amministrazione è stato reso noto dalla Guardia di Finanza delle Marche grazie ai piani di controllo. Le fiamme gialle hanno scoperto circa 900 lavoratori assunti in nero o irregolari, utilizzati in modo improprio da più di 100 datori di lavoro. In materia di appalti pubblici, nel 2015 sono state riscontrate irregolarità per più di 5 milioni di euro con la denuncia di 34 persone. Specifica attenzione, è stata riservata anche ai reati contro la pubblica amministrazione da parte di dipendenti pubblici infedeli. In 80 sono stati denunciati di cui sei tratti in arresto. I finanzieri hanno accertato inoltre il riciclaggio di somme di denaro per un importo di oltre 200 milioni di euro, a cui si è accompagnata la denuncia di 66 responsabili e l'arresto di due persone. In 5, invece, sono stati denunciati per il reato di usura e 4 arrestati. Costante l'impegno delle fiamme gialle, anche sul fronte della lotta alla contraffazione. In questo settore sono state denunciate 250 persone e sequestrati 130 quintali di prodotti contraffatti o pericolosi, come capi di abbigliamento realizzati con materiale scadente e senza rispettare le norme di sicurezza. La Guardia di Finanza di Pesero Rubino ha sgominato, fra l'altro, un'associazione per delinquere che importava dall'estero grano e mais spacciato per biologico. Un altro dato sconfortante arriva dal settore delle prestazioni sociali agevolate, come i servizi sociosanitari domiciliari, contributi per l'affitto, telefono, luce e gas. Perché solo nella nostra regione, su 127 controlli, le irregolarità hanno superato il 60% dei casi. Ad approfittare dei benefici sono quindi le persone che per reddito o per le condizioni del nucleo familiare non ne avrebbero diritto.